La CISRI, Scuola Internazionale Superiore per la Ricerca Interdisciplinare, è un forum di formazione permanente rivolto a giovani laureati i quali vogliono affrontare le grandi domande filosofiche. L'idea è un metodo bottom up, dove si comincia dalle domande che hanno origine, che vengono suscitate dal pensiero scientifico, dalle scienze umane, si passa poi a un'astrazione filosofica e alla fine si ascolta anche quello che la rivelazione ebraico-cristiana ha da dire sul tema. Il problema di Dio nasce all'interno stesso della cultura scientifica. Certo sono due ambiti diversi, tra cui c'è però una consonanza che nasce proprio sul piano della ricerca del senso, della ricerca di un fondamento. Questi seminari che noi offriamo con la Scuola SISRI vogliono essere delle occasioni per riaprire una prospettiva più ampia e quindi fortemente interdisciplinare anche per coloro che per qualsiasi ragione si trovano a doversi concentrare su punti molto specifici. La possibilità di poter venire qui e confrontarmi con ragazzi, giovani, studiosi, di ricercatori, di ogni ambito disciplinare ovviamente arricchisce. È un luogo di scambio di informazioni ma anche di metodologie. Ho sentito, non so, una frase di un filosofo che può generare nuove idee, nuovi progetti. Ho modo sia di confrontarmi con altri dottorandi, altri ricercatori che si occupano di altre materie, quindi arricchire il dialogo, ma anche allo stesso tempo con le lezioni magistrali di guadagnare ulteriori strumenti intellettuali per cui affrontare poi la mia materia.